Con l'aumento vertiginoso dei contagi in regione Campania e i posti letto che scarsigiano negli ospedali della provincia di Salerno, l'asela diretta da Mario Iervolino sarebbe pronta ad attivare 20 dei posti letto presenti nel presidio agropolese. Il direttore Iervolino in queste ore vista l'alta percentuale di contagi e ha lavoro per potenziare i posti letto di terapia intensiva, subintensiva e posti di degenza. Si pensa di attivare 24 posti di terapia intensiva a Ruggi di Salerno, 6 all'ospedale da Procida più altri 6 di terapia subintensiva, 8 di terapia intensiva a Scafati, oltre a 102 posti di degenza al da Procida, 44 a Scafati e 20 all'ospedale civile di Agropoli. Proprio quest'ultimo presidio, rispetto agli altri della lista, è infatti in attesa di una totale attivazione visto che è stato potenziato e riconvertito in covid ospita, ma attualmente i pazienti che in precedenza necessitavano di un ricovero all'interno del nosocomio agropolese sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie attrezzate e con personale specializzato. La possibilità di attivare una volta per tutte l'ospedale forse è vicina, non è escluso che già da questa settimana qualcosa possa muoversi all'interno della struttura ospedaliera. Noi, come sempre, saremo vigili e attenti che non si tratti di un'ennesima fake news.